Il Paradiso delle Signore oggi 27 febbraio 2023 va in onda? Cosa cambia su Rai 1? A seguito della morte di Maurizio Costanzo avvenuta lo scorso venerdì il noto giornalista ispirato all'età di 84 anni il palinsesto della rete Mediaset è andato incontro ad alcune modifiche. In primis, venerdì il seguito dating show condotto da sua moglie, Maria De Filippi. Non è andato in onda. Analogo discorso per C'è posta per te e per il talent di Amici. Rispettivamente previsti per sabato sera e domenica pomeriggio su Canale 5. Ora. Alla luce del fatto che i funerali del noto giornalista diterranno oggi, lunedì 27 febbraio. A partire dalle ore 15 presso la chiesa degli artisti in Piazza del Popolo a Roma. Ulteriori stravolgimenti potranno riguardare il palinsesto delle reti Mediaset ma anche quelli della Rai. Cerchiamo di fare chiarezza. Le esecue del celebre condottore e giornalista saranno trasmesse oggi a partire dalle 14 su Canale 5 nella trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin che in collaborazione con il TG5 trasmetterà lo speciale Ciao Maurizio. Alla luce di ciò, anche in questo lunedì il celebre dating show Uomini e donne non sarà trasmesso ed un simile discorso potrà poi valere per il Daiti Mediamici. Tuttavia, rispetto a quest'ultimo, al momento non c'è ancora nessuna certezza. Questi alcuni dei cambiamenti che nel corso di questi delicati giorni hanno caratterizzato i palinsesti delle reti Mediaset. Ma a cambiare in vista della trasmissione indiretta dei funerali di Costanzo non saranno soltanto i palinsesti della Mediaset. Trasmessi anche sulla televisione di stato indiretta a partire dalle 15, cosa cambia per la programmazione di Rai 1? Per fare posto e seguire la cerimonia funebre di Maurizio Costanzo la sopa Il Paradiso delle Signore non andrà in onda e l'episodio previsto per oggi sarà invece trasmesso domani. Martedì 28 febbraio. Inoltre anche il talk di Serena Bortone, oggi è un altro giorno in diretta su Rai 1 a partire dalle 14 andrà sì in onda ma in una versione ridotta così da lasciare spazio. Alle 15, all'ultimo saluto a Maurizio Costanzo. Muzica a pus cu rapul și pentru el e de bun simt să ridic ștacheta Liric vorbint să ajungă la ea doar nasta cu racheta Să o admire nave spațiale de pe Andromeda Ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta Aia de când mă știu textul-i plin de dude Dumele tante printre dalea culte Încerc flow-uri sute la show-uri buite Cum rup capete lumea de din capă rupte Obele bat cu inima deodată nu le opresc Că nu-s atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi Orice crezi ține pentru tine Fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu Grafărul din Toto, toți MC-ul care am crescut Pe scurt de la un...